A preso spunto dalla denuncia di una madre, l'operazione anticrimine condotta dai carabinieri di Cosenza e che ha portato alla emissione di 26 ordinanze di custodia cautelare, delle quali 10 in carcere e 16 ai domiciliari, e di 9 obblighi di dimora nei confronti di altrettante persone, accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, detenzione illegale di armi, ricettazione ed estorsione. La donna non ne poteva più di vedere il figlio assumere e spacciare droga, si è allora rivolta al comandante della stazione dei carabinieri di Cosenza Nord, Francesco Parisi. Immediate sono scattate le indagini condotte dal PM Giuseppe Cozzolino e coordinate dal procuratore capo Mario Spagnuolo e dall'aggiunto Marisa Manzini. Attraverso numerose intercettazioni ambientali e telefoniche sono stati documentati circa 700 episodi di spaccio alimentati da una incessante domanda di droga. I push di ritardo con il pagamento delle partite di droga da smerciare venivano minacciati o pestati dai rossisti. Alcuni di loro, per racimolare i soldi necessari, diventavano ladri seriali. L'operazione, denominata Mater, ha richiesto l'impiego di 250 uomini con l'ausilio di unità cinofile dello squadrone cacciatori e dei militari dell'ottavo ed in nucleo di Vibo Valencia. Rinvenute e sequestrate quattro pistole, 13 kg di marijuana e 7 kg di hashish. Sono finiti in carcere Carlo Spadafora, Riccardo Gaglianese, Carlo Bruno, Giuseppe Gozzi, Francesco Mazzei, Enzo Bertocco, Gabriele Pati, Salvatore Pati, Francesco Lopolito, Manuel Esposito, Salvatore Bruno per la Cineus24.